Ok, per svolgere questo esercizio partiremo da una posizione di push up. Da qui eseguiremo un push up, andremo a spingere forte e l'arrivo sarà su un solo braccio. Dopodiché riporteremo il braccio opposto in posizione di partenza, un altro push up, andremo a spingere e l'arrivo sarà su un braccio opposto. Grazie.